Ciao a tutti, sono GB Factory e benvenuti in questo nuovo episodio della serie su Spigot, in cui vediamo come sviluppare plugin Minecraft. Nell'episodio di oggi vedremo come gestire gli eventi, quindi come intercettare un evento che avviene nel server ed eseguire del codice appunto quando avviene quell'evento. Prima di iniziare vi ricordo che per qualsiasi domanda o programma con il vostro codice voi possiate avere, vi ricordo che potete entrare nel server Discord di GB Factory Code, trovate il link in descrizione. Per esempio quando un player si muove sul nostro server, quello è un evento, noi possiamo eseguire del codice ogni volta che un player si muove, oppure quando un giocatore piazza un blocco oppure rompe un blocco, anche quelli sono degli eventi. Quindi mettiamo caso che un player piazzi un blocco sul nostro server e noi appena il player piazza quel blocco possiamo eseguire del codice, possiamo per esempio inviare un messaggio in chat con scritto hai piazzato un blocco, un esempio semplice. Spigot ci mette a disposizione veramente moltissimi eventi, infatti se andiamo sulla documentazione e cerchiamo qui event, vedete che abbiamo una serie di pacchetti e ognuno di questi pacchetti contiene varie classi che rappresentano appunto vari eventi. Vedete alcuni vengono messi a disposizione direttamente da bucket, mentre altri sono stati implementati da Spigot. Per esempio andiamo qui su org.bucket.event.player e vediamo tutti gli eventi relativi ai player. Abbiamo eventi per quando il player entra nel letto, abbiamo eventi per quando il player scrive in chat, per quando il player pesca, rompe dei blocchi, entra nel server, viene chiccato, si muove eccetera eccetera eccetera. Ovviamente trovate i link in descrizione della documentazione se volete vedere anche voi quali sono questi eventi. Adesso la prima cosa che dovremo andare a fare nel nostro codice sarà andare a creare un nuovo pacchetto all'interno del pacchetto principale del nostro plugin all'interno del quale metteremo le classi dei nostri eventi. Quindi new package e lo chiameremo events. E all'interno di questo pacchetto dovremo andare a creare una nuova classe, in questo caso la chiamo gestione eventi. Per il momento andremo a mettere tutti i nostri eventi listener all'interno della stessa classe, ma poi in futuro magari una cosa migliore da fare sarebbe dividere i vari eventi listener in varie classi. Questa classe gestione eventi dovrà implementare, quindi implements, la classe listener di org.bucket.event. Quindi facciamo un doppio clic e vedete che ci aggiungerà l'import qui sopra. A questo punto dobbiamo registrare il nostro listener, quindi questa classe che abbiamo appena creato. Torniamo su tutorialplugin.java e all'interno del metodo onenable dovremo andare a scrivere il codice getserver.getpluginmanager.registerevents e all'interno di questo metodo dovremo passare intanto listener, quindi la classe gestione eventi che abbiamo appena creato, new, gestione eventi, vedete che sarà stato aggiunto l'import. E poi il plugin, quindi la classe del plugin. In questo caso è proprio questa classe in cui stiamo scrivendo il codice, dato che è la classe tutorialplugin che estende javaplugin, quindi this. A questo punto possiamo tornare nella classe gestione eventi e procedere con il nostro codice. Adesso in questo esempio andremo ad eseguire il codice ogni volta che il player si muove. Quindi ci interessa l'evento player move event. Quindi adesso andiamo ad aggiungere un listener per questo evento. Per intercettare un evento ci serve la notazione event handler, quindi inseriamo event handler, ovviamente la classe org.bucket.event, vedete avrà aggiunto l'import e sotto questa notazione andiamo a scrivere il nostro metodo, quindi public void e qui ci andrebbe il nome del metodo. In teoria possiamo chiamare il metodo come preferiamo, però per questioni di leggibilità un metodo molto usato per dare i nomi appunto agli event handler è on con dopo il nome dell'evento. Quindi in questo caso per esempio player move. Apriamo le parentesi e qui dovremo inserire il nome vero e proprio dell'evento. In questo caso player move event. Quindi andiamo ad inserire player move event di org.bucket.event.player appunto. Diamo invio e a questo evento diamo appunto il nome event per avere accesso poi all'interno del metodo di tutte le informazioni di questo evento. Quindi il codice che viene messo all'interno di queste parentesi viene eseguito ogni volta che il player si muove. Una cosa molto semplice che possiamo fare è inviare un messaggio al player ogni volta che si muove. Per inviare un messaggio ci servirà l'oggetto player. Quindi andiamo a recuperarlo dall'evento. Creiamoci un nuovo oggetto player di nome player. Dobbiamo importare la classe player quindi alt invio importiamo. Uguale event.getplayer. Adesso stiamo utilizzando il metodo getplayer dell'evento. Infatti ogni evento ci mette a disposizione vari metodi. Se andiamo sulla documentazione vediamo che abbiamo a disposizione il metodo getplayer appunto ereditato dalla classe player event. Ma anche tanti altri metodi questi ereditati dalla classe event, get event name eccetera. Oppure dei metodi specifici a questo player move event. Come per esempio il metodo getfrom che ci dà delle informazioni sulla posizione iniziale del player. E getto che ci dà invece informazioni sulla posizione finale del giocatore una volta che ha terminato il suo movimento. Quindi tornando sul nostro codice una volta che abbiamo accesso all'oggetto player possiamo fare tante altre cose. Per esempio utilizzare sul gettoplayer il metodo sendmessage per inviare appunto un messaggio al giocatore. All'interno di questo messaggio possiamo anche utilizzare i colori della chat. Quindi chatcolor.green per esempio per colorare il nostro testo di verde. E successivamente inseriamo t6mosso per dare appunto il messaggio al nostro giocatore. Adesso per testare se tutto funziona andiamo ad esportare il nostro plugin build artifacts. Andiamo di build e aspettiamo che appunto il plugin venga compilato. Una volta compilato il plugin andiamo a metterlo all'interno del nostro server minecraft e lo avviamo. Proviamo a connetterci al nostro localhost. E vedete che una volta e ogni volta che ci muoveremo in chat appunto vedremo t6mosso. L'evento per esempio funziona anche se non ci muoviamo con i tasti WASD ma semplicemente muoviamo la testa. E per cambiare la direzione in cui osserviamo. Però ovviamente funziona anche se ci muoviamo in avanti. Ogni piccolo nostro spostamento ci verrà inviato un messaggio con scritto appunto t6mosso. Un'altra cosa che possiamo fare con i nostri eventi è cancellare gli eventi. Infatti alcuni eventi implementano l'interfaccia cancelable e tutti gli eventi che implementano questa interfaccia possono essere cancellati, interrotti. Per capire se un evento implementa questa interfaccia basterà andare sulla documentazione relativa all'evento, in questo caso player move event. E vediamo tutte le interfacce implementate e troviamo appunto qui la nostra interfaccia cancelable. Per cancellare l'evento sarà molto semplice, ci basterà andare qui sopra e richiamare il nostro evento event.setcanceled e passare un valore booleano. Che sarà ovviamente true se vogliamo cancellare l'evento. Proviamo a ricompilare il nostro plugin. Appena entriamo infatti non ci potremo più muovere. Vedremo che comunque in chat verrà scritto t6mosso. Però se proviamo a spostarci non possiamo fare assolutamente nulla perché appunto cancelliamo l'evento e non possiamo più muoverci. Se ci pensate questo è il sistema che viene utilizzato per esempio quando in un server frizzano i giocatori, quindi li congelano e gli impediscono appunto di muoversi. Quindi questo sistema che abbiamo appena visto può essere utilizzato per registrare tutti gli eventi che vogliamo. Infatti ci basterà andare qui sotto aggiungere un'altra annotazione, un altro evento eccetera e potremo intercettare un qualsiasi evento contenuto appunto nella documentazione che vi lascio in descrizione. Ovviamente andando più avanti magari potremo avere dei listener con all'interno un codice molto più complesso di questo. Quindi ci sarà il caso di creare all'interno del nostro pacchetto events una classe per ogni listener che vogliamo implementare. Per registrare i listener in tutte queste classi che potenzialmente potremmo creare basta andare nel main del nostro plugin, tutorialplugin.java, clonare questa stringa di codice e modificare semplicemente la classe del listener che abbiamo specificato qui. Magari per esempio per il nostro evento on player move potremmo avere la classe player move listener, un listener per un altro evento magari player join al server join listener eccetera e basta appunto specificare il nome della classe qui e clonare questa stringa. Quindi per questo video era tutto, se vi è piaciuto o vi è stato utile vi ricordo di lasciare un like sotto questo video, di iscrivervi al canale per non perdervi le prossime puntate. Per qualsiasi problema con il vostro codice potete entrare nel server discord di gbfactory code trovate il link in descrizione e noi come sempre ci vediamo in un prossimo tutorial.